Si raccusa acqua, caso Siam, il nuovo bando pastrocchio è il delirio dell'onnipotenza del sindaco Italia. Perché i sindacati dei dipendenti Siam contestano, giustamente, la clausola sociale inserita nel bando di gara per la gestione idrica? La risposta sta nel confronto tra l'articolo 50 del Decreto Legislativo 50 del 2016 e l'articolo 173 del Decreto Legislativo 152 del 2006. In base al primo decreto, che è quello inserito nel bando di gara, come ha sentenziato il Consiglio di Stato, non c'è alcun obbligo per l'impresa giudicataria di un appalto di assumere a tempo indeterminato e in forma generalizzata il personale proveniente dalla precedente società affidataria. Non c'è inoltre alcun obbligo di applicare ai lavoratori le stesse mansioni e qualifiche che avevano col precedente datore di lavoro. Come si vede con la clausola sociale contenuta nel Decreto Legislativo 50 del 2016, il posto di lavoro non è affatto garantito, come non sono garantite le mansioni e le qualifiche possedute. Con il Decreto Legislativo 152 del 2006, il personale dipendente da imprese che operano nel settore idrico passa direttamente e incondizionatamente col nuovo gestore che ha vinto la gara. La clausola sociale è piena e garantisce tutti i lavoratori. Allora, perché l'amministrazione Italia ha scelto l'opzione più svantaggiosa per i lavoratori applicando un decreto che non riguarda il settore idrico? Il Presidente Italia e l'assessore Coppa devono dare una risposta chiarificatrice e modificare il bando. Tutti, non uno di meno, i lavoratori Siam devono essere salvaguardati. All'assessore Gradenico consiglio di fare le stesse dichiarazioni al prossimo incontro con i lavoratori della Siam e i sindacati. Sono sicuro che si sentiranno tutti rassicurati delle sue parole e loderanno la sensibilità degli amministratori comunali. Mi permetto di aggiungere che l'unica cosa irresponsabile in questo momento, e non solo in questo momento, è mettere a rischio anche un solo posto di lavoro. Così in una nota Salvo Baio, esponente del PD Siracusano.